Assessore, c'è polemica a Chieti per quanto riguarda la questione Mense, dopo tutto quello che è accaduto anche nei giorni scorsi. Oggi la Lega va all'attacco della Giunta e chiede chiarimenti. La richiesta della Lega è una richiesta inverosimile. Mi dispiace per il senatore Di Stefano che non sa che se accede sul sito del Comune di Chieti, sul link tutto gare, può trovare tutta la documentazione relativa alla procedura di appalto che abbiamo avviato. Quindi una polemica abbastanza inutile. Non hanno argomenti. Vogliamo un attimo spiegare quello che sta accadendo ormai già da qualche settimana a Chieti per quanto riguarda le Mense scolastiche? Quello che sta accadendo a Chieti sulle Mense è molto semplice. L'appalto originario alla Ladisa è scaduto a febbraio del 2020. La vecchia amministrazione non ha compiuto alcun atto per procedere a una nuova gara d'appalto, ma ha prorogato per due volte l'affidamento a questa società appaltatrice. Le proroghe in base alla legge sono eccezionali e temporanee, non si può prorogare un servizio sine die, per cui la nuova amministrazione ha adottato tutti gli atti per avviare una gara d'appalto in base al codice degli appalti e in base alle linee guida dell'ANA, che è quello che stiamo facendo per garantire il servizio di riflessione scolastica a partire dalla scadenza dell'attuale appalto prorogato, cioè dal 1 febbraio del 2021. Dunque, per quanto riguarda questa nuova gara d'appalto, ora cosa accadrà? Già la settimana prossima verrà insediata la commissione che è già stata istituita con determina per iniziare l'esame della documentazione amministrativa presentata dalle ditte che hanno voluto partecipare all'appalto. I termini per la presentazione delle domande scadono lunedì prossimo, quindi già da martedì verrà avviato il procedimento amministrativo per arrivare all'aggiudicazione definitiva nel più breve tempo possibile.